Ciao a tutti, vi è mai capitato di svegliarvi, che ne so, se lavorate, se andate a scuola, tanto tanto presto, e che il caffè non sia abbastanza per potervi dare quella grinta, quella voglia di vivere che, ahimè, molto spesso, soprattutto nel freddo mese di gennaio, viene un po' a mancare, insomma, nonostante si debba avere le forti responsabilità della vita, queste langono di fronte alla sveglia che suona. Eppure io ho deciso di condividere con voi i miei trucchi musicali, ovvero quelle canzoni che mi aiutano a trovare la voglia di vivere al mattino. Molto spesso sono anche canzoni assolutamente non di qualità, ma che fanno il loro sporco lavoro. E quindi ho detto, proviamo a consigliarne qualcuna, e ci saranno di belle, di brutte, cioè un mix, in sostanza, servono per svegliarmi e poi o passo ad altro o vado al lavoro col sorriso, in sostanza. E ditemi anche i vostri consigli musicali che funzionano meglio del caffè. Iniziamo subito. Allora, una canzone che ascolto molto spesso al mattino, da quando l'ho scoperta, che funziona alla grande, mi dà una carica pazzesca, una voglia di vivere, è assolutamente Alter Life, di Rina Sawayama. Di questa cantante vi ho recensito il suo eccellente EP, naturalmente tutte le canzoni che cito sono nell'info box, con link di YouTube affiliato, diciamo. E questa canzone mi dà proprio empowering. È una canzone fortemente catchy, quindi accattivante, e sorretta da questo riff, da questa base che flirta un po' con rock elettronico. Lei ha questa voce grintosa, ammagliante, il ritornello è perfetto. Io mi sento padrone della città, assolutamente. Un'altra canzone che adoro ascoltare al mattino è della mia musa, ovvero Bjork, che come sapete vi ho fatto una testa così, adoro alla follia. È assolutamente Army of Me, perché lei non l'ho mai sentita così arrabbiata Bjork nelle sue canzoni, e lei è proprio queen in questa canzone, in questo grande pezzo, uno dei must della sua carriera. Addirittura può ricordare a tratti sonorità di tipo industrial, quindi belle pesanti, belle potenti, e ci piace. Così, come sempre di Bjork, ci deve piacere assolutamente It's So So Quiet, che ha un bel piglio jazz, swing, con lei che passa dalla dolcezza, quindi shh, shh, e poi all'improvviso esplode in un boato di urla e strepiti, ecco. È proprio una canzone che emette di buon umore e che funziona benissimo come sveglia, perché lei parte tutta carina, con questa ninna nanna quasi, e poi pa-na-na-na, e quindi esplode all'improvviso. Un'altra artista che però non deve mancare nella mia playlist mattutina è Miss Keta, ovvero la queen dei bar milanesi, delle serate notturne milanesi. Lei con il suo trap rap a base di moda, fashion, agio, prestigio e lusso, lei con le sue rime, con le sue frasi sempre accattivanti, mi dà la giusta grinta, e quindi io molto spesso al mattino, che fa ancora buio, quando io prendo il treno, ho gli occhiali da sole per nascondere le occhiaie, e con Miss Keta nelle orecchie. Mi sento come se fossi il dominatore della strada, in sostanza. Sempre trap rap, Samuel Aaron, che è un mio guilty pleasure, ma mi piace abbastanza, e in primis ci sta e illegale. Canzoni semplicissime, con rime, con frasi a volte buttate a caso, sconnesse tra di loro, ma hanno quel piglio giusto per affrontare l'esistenza, quando non si ha voglia di esistere, in sostanza. Molto spesso ascolto anche delle hit del passato che mi danno la voglia di agire. Ad esempio Britney, quindi Baby One More Time, assolutamente, oppure roba anni 90, ma che può spaziare sia dal rock, quindi magari Pearl Jam, eccetera, eccetera, e sia al pop, come i Best Street Boys, I Wanted That Way, oppure alcune taffognate dei primi 2000, come i Dari. A volte metto, vale come stai? Vale questa sera tra di noi, eccetera, eccetera. E quindi, guarda, non vi sto tralasciando nulla. A volte ascolto Vale, tanto Vale, mentre aspetto il treno. Oppure, dal contrario, mi danno grinta anche il Black Metal. Il Black Metal, ascoltato al mattino, oppure il post-hardcore, mi dà una carica in più mista al disagio di doversi svegliare, al disagio di non aver dormito abbastanza, di aver fatto le ore piccole a guardare video a caso di gattini. Quindi il Black Metal, in un certo senso, esorcizza tutto questo male e lo porta in auge con grande vitalità. Ascolto anche, che mi aiuta molto, Sky Ferreira. In particolare il suo unico album che si ripiglia a farne un altro, Night Time My Time. Un album, a mio parere, perfetto. Pop, ma in grado di flirtare anche con sonorità grunge, anni 90, alternative. Insomma, il buon compendio tra orecchiabilità, tra l'essere orecchiabile e una ricerca anche raffinata, anche grezza in realtà, raffinata nel senso di sonorità. Ma lo spirito è molto grezzo, è molto alternativo, anarchico, in un certo senso. Una canzone pop che probabilmente conoscerete, che mi dà proprio una spinta ad accogliere la giornata con un sorriso, è Countdown di Beyoncé, che secondo me è uno dei pezzi pop più belli degli ultimi anni. Complessissimo a livello di struttura e la sua voce qua è più esplosiva che mai. Un'altra pop star che mi dà la giusta grinta è Kylie Minogue, soprattutto i suoi pezzi d'oro dei primi 2000, quindi Spinning Around, Slow, Can't Get You Out Of My Head, eccetera, eccetera. E si va alla grande. Della musica che piace a voi giovani e che mi avete suggerito, ho nella playlist Morning Motivation anche Ride The 21 Pilots. E anche quella mi dà un empowering profondissimo, soprattutto quando a metà della canzone vira verso questa esplosione finale, il ritornello si alza sempre di più e a me piace molto. Vi do altri due consiglietti, che sono in primis Pleasure di Faist, la canzone che dà nome al suo ultimo album. Faist è questa cantautrice molto delicata, della quale però ho apprezzato il cambio di rotta nell'ultimo album, nel senso che nell'ultimo album affronta anche sonorità più crude, più grezze, più esplosive e tendenti a un rock bello arrabbiato. Ad esempio, se vi piace, può ricordare PJ Harvey, quel tipo di cantautrice lì un po' arrabbiate e nervose. E Pleasure è una canzone che confonde un po' le due anime della cantautrice, nel senso che parte tutta lenta, così, un po' con la sua voce calda, carina, e poi PAM! Arriva l'esplosione rock e ci trascina tutti in un gorgo di vitalità. E per concludere, una canzone molto particolare che probabilmente conosceranno in pochi e si ricorderanno in pochi, ma che è uno dei grandi pezzi italiani per eccellenza, è Quelli che ben pensano di Frankie High Energy. Una delle canzoni delle hit italiane con il miglior testo di sempre, probabilmente, ed è una delle poche canzoni effettivamente rap che ascolto più che volentieri, sia dalla base, che proprio il testo è la cosa bella di questo pezzo. E quando sto lì con questo abisso post-industriale dietro di me che è la stazione del treno, mi sento parte di un mondo in un certo senso riflessivo, introverso, e questo mi dà la giusta carica per affrontare la giornata con il sorriso e per poter gridare a gran voce BRONAG! BRAN! E niente. Questo era un video per darvi qualche consiglio random. Quali sono le vostre canzoni che vi danno la carica al mattino? Quali funzionano meglio del caffè? Fatemi sapere! Spero di avervi dato anche io qualche consiglio utile. Io vi aspetto intanto per un prossimo video. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao, ciao! Ciao! Alla prossima.